Negli ultimi giorni è circolata la voce che vorrebbe Ilari Blasi incinta di Bastian Muller. Lo scoop è stato lanciato dal magazzino Diva e Donna, che ha pubblicato uno scatto in cui si vede l'ex moglie di Francesco Totti abbracciata dal compagno con le mani sul presunto pancino. Ma è davvero così? Pare proprio di no. Gabriele Parpiglia ha smentito ufficialmente la notizia confermando che la conduttrice Mediaset non è incinta. Questa non è la prima volta che si diffonde una falsa notizia sulla presunta gravidanza di Ilari Blasi. Negli ultimi mesi sono state attribuite a lei almeno 5 gravidanze. Anche Chiara Ferragni è stata vittima di una simile indiscrezione da parte dello stesso magazzino, ma anche in quel caso si è rivelata falsa. Parlando di questioni più serie, la Blasi dovrebbe concludere a breve la pratica del divorzio con Francesco Totti. Non è escluso che possa poi sposarsi con Bastian Muller, imprenditore di Francoforte, con cui è in coppia da tempo. I due sono diventati inseparabili e hanno viaggiato insieme in tutto il mondo. Totti, d'altra parte, si è rifatto una vita con Noemi Bocchi ed è stato recentemente coinvolto in un gossip per un flirt con Maria Luisa Iacobelli. Insomma, sembra che ci sia qualcuno che si diverta a diffondere false notizie sulle presunte gravidanze delle star. Ma la verità è che la Blasi non è incinta, è tradizionata o chiusura del divorzio nototti.